Ciao ragazzi, come alcuni di voi ormai sapranno, House of Lama nasce con lo scopo di tenere unita la community di Fortnite Italia, offrendo informazione e più tipi di intrattenimento, a tutte le ore e in modi sempre diversi. Ogni creator o streamer che diventa partner di All sa di poter contare su una squadra pronta a valorizzarlo e su una famiglia che supporta il suo lavoro. Siamo alla ricerca di nuovi partner da inserire nel team, quindi se sei uno streamer o un creator di contenuti o mappe, se la tua offerta riguarda per lo più Fortnite e soprattutto se il tuo impegno è serio, ti invitiamo a leggere i termini di candidatura nella sezione info e regolamento del nostro server Discord, di cui trovate il link in descrizione. Nel frattempo, buon proseguimento su House of Lama!